Questa mattina, con un po' di ritardo rispetto agli altri anni, è ripartito il metro del mare. La pandemia ed altre problematiche hanno creato uno slittamento dei tempi, ma essendo un contratto di durata biennale c'è la certezza il prossimo anno di avere il servizio già dal 1 luglio. Lo fanno sapere gli amministratori della città di Agropoli. Il metro del mare collegherà da lunedì al venerdì il porto di Agropoli con Amalfi e Positano fino al 30 settembre. Un servizio importante, molto atteso da residenti e turisti, nella speranza che la regione Campania possa presto riprendere i collegamenti anche con Capri e la costiera Cilentana, che per il momento sono fermi. Oggi, con un po' di ritardo, comincia il servizio di collegamento tra il porto di Agropoli e la costiera Amalfitana. Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, sarà possibile imbarcarsi alle 8.55 qui dal molo vecchio del porto di Agropoli per andare a fare una passeggiata in costiera, un servizio importante che dà continuità a quello che si è svolto negli anni passati ed era importante quest'anno non mancarlo. Noi sappiamo che a causa della pandemia ci sono state una serie di ritardi, però siamo riusciti almeno per il mese d'agosto a dare continuità e questo ci fa comunque piacere. Programmeremo naturalmente meglio per il prossimo anno. Intanto ringraziamo la regione Campania per questo importante collegamento.